Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della stazione di Monte Corvino Rovella e di Acerno hanno arrestato un quarantenne del posto per lesioni personali e rapina impropria. L'uomo si è recato presso il bar gestito da una 48enne e sua ex compagna, colpendola alla testa e dal volto con pugni al culmine di una lite nata per futili motivi. Durante l'aggressione il quarantenne si è anche impossessato del denaro presente nel registratore di cassa del bar, ammontante a 10 euro. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo e che lo hanno sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione.